Salve a tutti e benvenuti dal vostro Gio su questo nuovo gameplay che per l'appunto come potete vedere su schermo e sicuramente letto sul titolo si tratta per l'appunto di PixArk PixArk è uno di quei giochini che in realtà ho sempre voluto provare ma che non ho avuto la possibilità di effettivamente provare subito infatti ho dovuto aspettare un attimino che magari abbassassero un attimo il prezzo e facessero comunque delle offerte e quindi adesso sono riuscito finalmente a poterlo prendere è uno di quei giochi che volevo provare perché unisce due meccaniche di due giochi che comunque sono abbastanza famosi e abbastanza conosciuti o per meglio dire sono stati abbastanza famosi e abbastanza conosciuti anche se devo dire che in realtà Minecraft forse ancora riesce a spingere a qualche cosa mentre invece Ark purtroppo ha perso tanto smalto però devo dire che comunque io personalmente ho giocato ad Ark e ci ho giocato veramente veramente tanto soprattutto l'estate di due anni fa se non ricordo male 2016 no tre anni fa veramente l'estate di tre anni fa ci ho giocato veramente tantissimo stavo le ore davanti al pc per costruirmi tutta la mia roccaforte tutta la mia base veramente veramente divertentissimo mentre invece Minecraft è stato sempre uno di quei giochi che effettivamente non ho mai amato non ho mai apprezzato tanto perché la grafica cubettosa tutto eccetera eccetera mi sembrava comunque da una fascia più piccola rispetto alla mia età anche se comunque noto che tantissime persone ci giocano anche della mia età o anche più grandi c'è da dire però che questo lo voglio provare perché unisce come vi stavo dicendo prima le meccaniche sia di Minecraft che di Ark e dato che a me piace tantissimo Ark volevo vedere effettivamente come hanno realizzato il tutto sotto forma di pixel anche se devo dire che qualche video l'ho visto in giro ho visto che comunque il gioco è davvero carino anche perché comunque graficamente non è pesantissimo quindi chiunque bene o male può farlo girare su qualsiasi pc bene o male non prende neanche tanto addirittura forse un paio di giga come gioco stesso quindi diciamo non è tutta questa grande complicanza dal punto di vista tecnico e dal punto di vista comunque anche di gioco per cui è per appunto un titolo che comunque possiamo provare tutti insieme possiamo giocare tutti quanti insieme ed effettivamente sfruttare anche magari per delle live o comunque per una miniserie che potrebbe uscire più tardi infatti questo sarà per me un semplice episodio pilota così come lo definisco io per vedere effettivamente se a voi interessa un gameplay o comunque vedere una storia creata dietro questo personaggio o seppure possiamo cominciare una sorta di live series come piacevano a me farle ovvero tutto fatto in live per stare insieme dove praticamente io prendo i vostri consigli e faccio ciò che per l'appunto mi dite voi di fare in chat quindi sono diciamo abbastanza fiducioso da questo punto di vista non vorrei fossilizzarmi sempre solo su opera omnia vorrei anche avere un po' di varietà portare magari più cose in generale quindi anche su questo punto di vista mi serve il vostro supporto in generale comunque detto questo io direi di farci una bella partita single player mettiamo tutto il default sì ecco perché io praticamente avevo fatto una mappa mia diciamo avevo fatto una mappa per conto mio dove praticamente stavo provando le caratteristiche del gioco e quindi ho messo magari il timing più accelerato l'esperienza accelerata per vedere un pochino come funzionava e devo dire che effettivamente la situazione mi è garbata parecchio infatti come potete vedere qua ho fatto una piccola prova ieri infatti ero già a livello 28 addirittura perché salivo di livello così senza fare niente e ripeto l'ho fatto giusto per vedere come funzionava in generale il gioco gli engram perché veramente ci sono tante cose che saranno simili a dark e lo vedremo insieme qua vedete stavo creando praticamente la mia terra cioè stavo creando appunto la mappa che utilizzeremo che utilizzeremo per questa serie sia che sia fatta in live sia che sia fatta comunque anche a puntate e episodi quello per me non è assolutamente un problema per cui eccoci qua creazione del personaggio come potete vedere è molto molto simile anche da questo punto di vista dark quindi già partiamo subito con ora mettere il nome che sarà jo tra l'altro si può anche scaricare il survivor se ce l'abbiamo di arc ora io purtroppo non ho installato questo gioco nella stessa cartella dove ho installato anche arc perché ho due partizioni di hard disk anzi non due partizioni ho proprio due hard disk separati e arc l'ho messo nell'SSD perché comunque mi serviva la velocità dell'hard disk mentre invece questo l'ho messo sull'hard disk rigido quindi quello normale e praticamente non si riescono a trovare i corrispettivi character infatti probabilmente sposterò la cartella o comunque farò uno spostamento di file per vedere se effettivamente si riuscirà a fare per vedere questa meccanica dello scaricare il personaggio di arc comunque costruiamocelo da zero io lo vorrei fare ecco così dai diciamo primitivo capelli quali ci sono vediamo ci sono anche questi qua che non sono male quindi diciamo che allora la caratterizzazione del personaggio è abbastanza limitativa anche perché comunque non c'è tanta roba da da poter fare ecco magari gli occhi mettiamo questi poi quali altri tipi di occhi ecco questo qua uno sguardo un po' più tranquillo ovviamente barba come ce l'ho io classica bella tutta bella irta fisicamente non voglio cambiarlo più di tanto quindi go entriamo così diciamo lo voglio rendere abbastanza standard i tasti li ho già provati comunque ieri ho provato bene o male a vedere come effettivamente si possa interagire ecco ora sono spawnato in una zona che praticamente non conosco perché ieri ero spawnato in un'altra zona come potete vedere la grafica è davvero davvero semplice molto 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 bella perché a me piacciono questi colori abbastanza spinti e diciamo che l'inizio le fasi iniziali sono tutte uguali per questo tipo di gioco quindi craftare le cose di base trovare gli armamentari di base trovare tutto tra le piante eccetera eccetera la telecamera può essere cambiata col tasto centrale del mouse quindi come potete vedere possiamo mettere la possiamo mettere la la telecamera in prima persona o addirittura in terza persona anche se devo dire che in realtà su arc preferivo sempre la telecamera in prima persona qui invece mi piace molto di più la telecamera in terza persona in realtà non so perché forse perché comunque ho questi colori il personaggio di per sé non è molto ingombrante nella sua scena posso vedere tutto effettivamente sia avanti che dietro quindi diciamo che la telecamera in terza persona mi piace veramente veramente tanto come potete vedere i engram funzionano esattamente come su arc quindi io devo assolutamente diciamo nel frattempo qua sta andando avanti il tutorial ma questo non è un problema e quindi stavo dicendo per l'appunto che funziona tutto bene o male come arc cioè abbiamo un inventario molto simile a arc l'hud sotto con gli oggetti dallo slot 1 fino a 0 per contenere ovviamente tutti i nostri oggetti il menu questo sulla sinistra che vedete dove praticamente possiamo vedere gli oggetti che possediamo all'interno del nostro inventario ciò che possiamo craftare ciò che possiamo imparare tramite gli engram questo ovviamente è il manage taming che ovviamente per adesso non possiamo fare perché non abbiamo nulla cioè non abbiamo nessuna creatura da tamare o comunque nessuna creatura tamata poi questo qua sono l'handbook che sarebbe ovviamente il mostriario quindi per vedere tutti le tipi di creature che sono presenti all'interno del gioco l'enciclopedia che sinceramente non mi interessa più di tanto perché comunque conosco bene il gioco avendo giocato ad arc veramente tante e tante ore e poi questo è per creare la propria tribù e questo ovviamente è la quest manager che praticamente si può sfruttare per l'appunto tramite la mappa quindi se noi apriamo la mappa come potete vedere sotto abbiamo le daily rewards che praticamente sono delle sorte di ricompense che otteniamo facendo esattamente ciò che c'è scritto lì veramente ci sono tante cose tante meccaniche da studiare tante cose che conosco già da arc e tante cose che in realtà non conosco dal mondo di minecraft anche se in realtà il mondo di minecraft qui è stato preso molto alla leggera perché per quello che riguarda appunto minecraft possiamo vedere soltanto i blocchi tutto il mondo pixelato tutti i mondi a blocchi ma in realtà il gioco di per sé è arc infatti come potete vedere ci sono le fiumie ci sono i triceratopi, i pachinosauri cioè c'è di tutto col tasto destro del mouse possiamo analizzare tutto ciò che ci circonda praticamente come potete vedere e possiamo vedere anche qual è il mezzo diciamo lo strumento suggerito per poter ottenere le risorse da esso quindi diciamo che il gioco di per sé è anche abbastanza tra virgolette facilitato e questo lo capisco perché comunque stiamo parlando di un titolo che è prettamente infantile diciamo dal concept quindi giustamente dà gli strumenti necessari per dare tutto il divertimento e tutta l'esperienza possibile a un ragazzino comunque fondamentalmente magari quelli della mia età che comunque viaggiano sui 30 anche se ancora in realtà ne faccio 27 a luglio però diciamo che quelli che viaggiano verso la mia età probabilmente un gioco del genere non lo apprezzerebbero in toto come un ragazzino magari un po' più piccolo vedendo i colori vedendo tutti i paesaggi vedendo tutto quello che c'è ne può restare effettivamente molto affascinato il menu ve l'ho già fatto vedere ve l'ho fatto presente io praticamente voglio aumentare anche se il peso già è a 200 quindi tantissima roba magari aumentiamo un po' la vita e la stamina così da essere un po' più longevi da questo punto di vista poi si vabbè cambiare la visuale come vi stavo dicendo prima col tasto centrale del mouse si può cambiare la visuale quindi portarla dalla terza persona alla prima persona io personalmente preferisco come vi stavo dicendo prima la terza persona quindi probabilmente terrò questa come telecamera per il momento a meno che poi devo sistemare oggetti devo sistemare chissà che cosa allora sì magari metterò la prima persona però tendenzialmente vedete la prima persona per esempio in questo caso su arc mi piaceva di più mentre invece qui come potete notare dà molta dà una sorta di limitazione rispetto a quello che possiamo guardare perché vedete siamo abbastanza siamo abbastanza come dire non mi viene il termine esatto forse limitati ecco forse siamo abbastanza limitati dal vedere ciò che ci circonda mentre invece così come potete vedere abbiamo una grandissima visuale possiamo vedere anche possiamo vedere ben oltre le zone che in realtà ci competerebbero con la visuale in prima persona lì addirittura ci sono già dei nemici sono dei goblin cosa sono quelli vediamo sì goblin che praticamente sono delle creature non si possono tamare forse è infatti raccomandata addirittura la copper suite quindi addirittura l'armatura in bronzo già addirittura quindi quella è una zona che è abbastanza pericolosa comunque abbiamo sbloccato altri engrammi infatti come potete vedere adesso posso fare la lancia poi man mano potrò imparare comunque a costruire tante tante cose così come su arc quindi le picchie le accette ora in questo caso ho imparato a costruire la lancia c'è tanta roba da poter costruire tanta roba da poter utilizzare i dinosauri classici come sempre come potete ci sono i dodo i pteranodonti i pachinosauri quindi diciamo che anche qui come su arc ovviamente ci sono i vari biomi e vari biomi che presentano comunque le varie come dire le varie le varie specie di animali le varie razze che contraddistinguono appunto qualsiasi biomio e diciamo che di per sé il gioco a me piace perché vi ripeto è una meccanica che a me piace quella del costruire craftare esplorare la mappa tamare i dinosauri soprattutto il taming a me il taming su arc era una delle meccaniche che veramente faceva impazzire stare lì a guardare quel dinosauro non farlo attaccare fargli mangiare le bacchie fargli mangiare la carne fare la guardia appunto che tutto il taming comunque non avesse problemi dare poi ovviamente anche il keyball quando si riusciva a craftare il keyball per avere un taming perfetto quindi aumentare le caratteristiche veramente quelle erano cose che a me piacevano tantissime ah questi addirittura sono i nuovi pannelli delle quest dove possiamo accettare diverse dove possiamo accettare diverse quest infatti come potete vedere anche se al momento non ne abbiamo quindi non mi interessa più di tanto allora vediamo effettivamente cosa possiamo iniziare a a creare quindi vediamo un pochino ecco armi per adesso non abbiamo niente di che poi equipaggiamenti abbiamo i pantaloni tutti vestiti di di stoffa ecco che le impariamo questi sono importanti poi la sella del pachinosauro che effettivamente posso craftare che sarà uno dei primi dinosauri che qui forse si tama il campfire che è assolutamente importantissimo lo storage box che è importantissimo poi lo sleeping bag che questo però sarebbe il diciamo quello a uso singolo che era come quello che c'era su arc che era il letto provvisorio quindi anche questo è già le strutture in touch quindi le strutture praticamente di paglia e quelle in legno quindi stiamo già iniziando anche a imparare le strutture in legno ok siamo senza engram quindi poi appena aumenteremo di livello continueremo la nostra continueremo la nostra il nostro diciamo accrescimento di abilità allora aumentiamo il aumentiamo l'ossigeno anche ecco così andiamo avanti e poi iniziamo a vedere effettivamente cosa possiamo craftare la picca ovviamente e l'accetta sono engram di base dove dobbiamo avere legno e flint che sarebbe comunque il il carbone flint che sarebbe sì la pietra focaia forse più che carbone perché il carbone è coal purtroppo non c'è la traduzione in italiano io non l'ho trovata ho cercato comunque di vedere se effettivamente ci fosse una traduzione italiana ma o non c'è nella versione che ho preso io oppure non c'è proprio la versione italiana del gioco il che mi dispiace un pochino proverò a vedere se magari trovo qualche patch magari fanmade dove appunto ci sono le traduzioni ma più che altro allora mi serve praticamente il legno il legno dovrebbe io l'ho fatto praticamente cioè ho un pochino ecco esatto e praticamente si ottiene 21 quantità di legno addirittura è molto più facilitato rispetto comunque ad arc e sto mantenendo comunque le impostazioni di base cioè non sto mettendo il tutto accelerato come ho fatto nella mia partita precedente qua diciamo è tutto messo normale quindi l'accetta ah l'accetta non è col flint ah è la la torcia che si fa col flint mentre invece questa si può fare solo col legno e allora mi crafto un'accetta mi crafto una piccozza questo sarebbe ah woodstick quindi diciamo la mazza praticamente ok la lancia invece mi serve la roccia allora io mi metto tutti gli oggetti come su arc quindi nell'uno metto la piccozza e nel due metto l'accetta ora la roccia qui io da quello che ho letto anche sul ecco vedete il flint si ottiene in questo modo dalle pietre proprio quelle diciamo dalle rocce quelle un pochino ecco qua poi si ottengono anche i cubi di materiale normale e le rocce se non sbaglio si dovrebbero trovare qui sotto diciamo scavando verso il basso esatto rock come potete vedere rock per 3 si queste diciamo sono cose che ho tra virgolette imparato da autodidatta perché ho iniziato ad esplorare un pochino la mappa per conto mio e mi sono ritrovato praticamente con ah questo addirittura già è il rame eh ma il rame ancora però non lo posso ottenere con questo con questa piccozza infatti posso ottenere il la pietra si ma il rame diciamo è ancora un po' troppo presto e come potete vedere qua si possono sfruttare le stesse meccaniche di minecraft quindi se noi vogliamo salire o vogliamo scendere praticamente basta costruirsi una scaletta no con picconando un po' destra e sinistra e si riesce comunque a raggiungere bene o male qualsiasi superficie questa diciamo è una cosa che avvantaggerà tantissimo il mio gameplay anche perché io già sto pensando al fatto di poter tamare le creature facendole cadere praticamente in delle buche cioè io già penso al come sfruttare questa falla nel futuro se vi ricordavate su arco io costruivo comunque le trappole costruivo tutte le recinzioni per evitare che il dinosauro scappasse qua invece è molto più facile perché mi basta semplicemente creare una buca far cadere il dinosauro là dentro e tamarmelo come se non ci fosse un domani quindi diciamo che questa potrebbe essere una grossa falla del sistema vediamo se già posso ecco mi posso craftare la lancia che la mettiamo sullo slot 4 assolutamente qui abbiamo addirittura i blocchi block of dirt can't be placed quindi come su minecraft praticamente se io prendo i blocchi vedete di terra praticamente li posso piazzare li posso praticamente piazzare e fare vedete come su minecraft le praticamente le torri di babele con tutti i materiali e anche questo sicuramente potrà essere sfruttato per diciamo per evitare che comunque i dinosauri o in generale persone magari nemici o quello che mi possano effettivamente fare danno perché magari mi attaccano e mi fanno io mi costruisco le torri di babele così riesco tranquillamente a gestire la situazione questa è la cacchina quindi va bene così ecco diciamo che già il gioco di per sé presenta molte falle dal punto di vista logico perché se io parlo su arc per esempio queste cose non le potevi fare il fatto di poter scavare infilarti in una buca poter costruire queste specie di pilastri sui blocchi quelli classici di terreno non l'avrei mai potuto pensare su su arc quindi mentre invece qua sfruttando questo tipo di meccaniche invece si ok aumentiamo un pochino il peso così possiamo caricarci un pochino di roba in più per quanto riguarda il resto ora direi che forse magari faccio un piccolo taglio in modo tale da concentrarmi un attimo sul craftarmi o comunque costruirmi qualcosa per evitare di far perdere comunque anche troppo tempo alla registrazione e magari mi concentro un attimo mi costruisco qualche cosina trovo una postazione magari dove mettere radici quindi dove costruirmi magari una casetta forse la sotto potrebbe essere la zona migliore forse quella lì potrebbe essere la zona migliore e nel momento in cui poi finisco ovviamente di craftarmi o comunque costruirmi tutto ciò che mi serve continuiamo un altro pochino magari l'esplorazione della mappa magari ci facciamo un piccolo timing il primo timing di questa avventura e poi magari stacchiamo e decideremo insieme comunque come sempre che cosa fare magari portare live e fare una live series come vi stavo dicendo io dove praticamente facciamo di tutto e di più oppure se fare una sorta di serie pilo una serie a parte oltre a quella di Vagrant Story che sta uscendo comunque sul canale fare magari una serie a parte e poi farlo uscire magari quest'estate giusto per avere un qualcosa di un po' più leggero un po' più di soft questo ovviamente lo decideremo sempre insieme io leggerò i commenti anche perché mi interessa sapere qual è la vostra opinione quindi direi che è giusto così allora faccio faccio questo faccio un piccolo taglio e ci rivediamo poi nel momento in cui magari ho craftato qualcosa sono andato un po' più avanti e faccio e faccio qualcosa di sensato anziché gironzolare in giro ok la casa direi che sta iniziando a venire fuori come potete vedere la sto praticamente facendo tutta in legno quindi sto iniziando a fare anche il tetto da questo lato anche se qua molto probabilmente farò un altro tetto in modo tale da fare poi la casa a due piani per mettere delle scale ovviamente in giro quella per per farlo un po' più comoda comunque per il momento penso possa essere tutto così io mi metto a lavorare sulla casa fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente di questa di questa nuova serie di questo nuovo progetto e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti